Un vero e proprio diluvio a Montesilvano Pierno, giornata ideale per allenarsi in vista dell'Ancona, scherzi a parte, partita da non fallire domenica. No, assolutamente, veniamo da una bella prestazione ad Olbia e vogliamo assolutamente riconfermarci. Scherzi a parte, torniamo ad analizzare proprio quella partita di Olbia perché la squalifica di Milani ti ha creato un'opportunità. Hai risposto molto bene creando l'occasione per sbloccare la gara con il rigore. Sì, io sono sempre a disposizione del mister, sapevo che Mila era squalificato domenica e avendo fatto già quel ruolo a sinistra l'anno scorso comunque ero a disposizione del mister che mi ha scelto lì come terzino sinistro e poi quando vado in campo cerco di dare sempre il 100%. Sull'assist di Accornero hai preso bene le spalle ad Arboleda, la stersata è costretto Bellodi a un chiaro fallo, no? Sì, 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 per fortuna la palla è arrivata, Fede me l'ha passata e sono contento comunque di aver procurato il rigore. Adesso hai messo in difficoltà chiaramente Cascione perché domenica vorrai, almeno tu speri, di essere confermato. Sì, certo, io sono tranquillo, sono sempre a disposizione del mister, qualsiasi siano le sue scelte, io sono tranquillo, sereno, penso a lavorare e penso soprattutto al bene della squadra. Tu fai parte della linea difensiva del Pescara, quattro partite con Cascione, un solo gol subito a Cesena, nelle gestioni precedenti invece i numeri erano pesanti. Cosa è cambiato, Roberto? Il mister ci sta dando una mentalità non tanto difensiva quanto di unione in campo, quanto di compattezza. Ci ha dato questi input appena arrivato, posso dire che alla fine sta funzionando perché sotto questo punto di vista siamo migliorati in queste quattro partite, però adesso abbiamo una partita importantissima, sicuramente molto difficile, una squadra che lotta per non retrocedere, quindi dobbiamo essere bravi a riproporre quello che abbiamo fatto in queste ultime uscite. Ti chiedo quanto ci credi nel quinto posto? Al Gubbio basta una vittoria classifica alla mano nelle ultime due, però a due partite impegnative. No, noi ci crediamo, non guardiamo la classifica, non facciamo calcoli, pensiamo soprattutto a finire bene questo campionato e poi andare ai play-off nel miglior modo possibile. Ma ti sono sincero, non guardo la classifica, guardo il fatto che noi in campo adesso stiamo migliorando, in queste ultime uscite, ripeto, abbiamo fatto comunque bene. Peccato per la sconfitta col Cesena che comunque ha fatto male per come è arrivata, però noi pensiamo a chiudere bene questo campionato, a fare una gran prestazione domenica e poi si vedrà. L'ultima, play-off, obiettivo, te la senti di dire di puntare al massimo oppure un po' troppo ambizioso dire Serie B? No, certo, si punta sempre al massimo, altrimenti non faremo questo sport. Quando va in campo è per puntare al massimo, altrimenti non scenderemo in campo.